Ben ritrovati, saluto tra la batmati, bionicentro, non trovo il delpi, allora questa è la quattro dicesima parte Volevo dirvi, col Preston, volevo dirvi che ci sono state due puntate che sono l'ottava, una è l'A, una è la B E' venuta così, comunque andiamo avanti Siamo contro la tredicesima, siamo a tredicesima, abbiamo vinto prima la corsa partita contro lo Sheffield United E ora siamo ottavi, abbiamo già recuperato un pochino Abbiamo vinto una bella partita, oggi abbiamo vinto una bella partita Hanno tre giocatori fuori, un voto, tre giocatori fuori che ci fossero stati loro, forse, non lo so Dunque ce ne sono tre fuori, speriamo Dai ragazzi, si, vai Kuz, vai Kuz, dai, dai ragazzi Vediamo il risultato Dai Kuz Dai Perry Comunque non voglio risultare perché è facile, è bene da due a due Dai Sì, hotroid, vabbè te lo voglio ancora risultare, non voglio più risultare Dai, dai No, McClough Formano, va bene 3-1, 3-1 Ragazzi voi poi se dicete, vabbè è risultato però che abbiamo vinto 3-1 E' importante per noi, è importante Però purtroppo abbiamo perso McCloughin per un po' di partite C'è ancora McCloughin fuori, giocherà Hunt McCloughin, una partita Una partita, va bene, va va va, una boda E ora siamo sesti, zona playoff Zona playoff, abbiamo già recuperato Ma non è ancora finito il campionato, siamo solo il 26 novembre Sì, va bene così, va bene, andiamo avanti così Un'altra coppa, è la seconda che giochiamo, siamo stati eliminati tutti e due, siamo stati eliminati Eh, è fake up questa Sarà che inizi così presto Vabbè, scusate come non c'è, è la fake up, è la fake up È fake up Col Barnet Beh, è troppo forte ragazzi il Barnet Per il Preston Preston Nord Perché noi siamo di Siamo di Di la terza serie, come serie C Voi pari, con calma Invece il Barnet è la seconda Come serie B Perciò È pazzesco che vinciamo Con c'è Aia, mamma mia, è impossibile se vinciamo Ecco, ecco, ho parlato McCloughin, ha aperto la partita Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Mamma mia non ci credo, ah c'era Gray fuori, McClough, ah ma allora McClough deve stare in panchina, no, McClough, McAllister, Brown, perché c'è Brown, McClough ma è, mamma mia sono contentissimo, le vincità enorme battere una squadra che è più forte di noi nella carta, abbiamo vinto 2 a 1, è pazzesco, Parry è uno che segna sempre adesso, e non ci fa molto, molto bene, e adesso però c'è una partita importante, sì, no, con Charles, con il Charles che è ventesimo, è importante lo stesso, siamo in casa, siamo in casa, siamo in casa, dobbiamo ci fare di vincere, è importante tornare a vincere, è importante questa serie positiva, un attimo vedere la classifica, il 3 dicembre, E, stai, 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 vincendo questo, ci allunghiamo, ah, voglio dire che dopo questa qui finirà la quattordicesima, quattordicesima parte, Dai ragazzi, Dai, presto, che possiamo, possiamo andare ai playoff, cioè siamo già però, Grande Bagaioco, dai, dai, Dai ragazzi Sì, Bagaioco, doppietta, grande Dai, 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 sì, 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 abbiamo vinto, abbiamo vinto 2 a 0, siamo tornati, è tornato, forse è il presto, Che ha senso che lotterà per la playoff, almeno, sì, siamo forse tornati, ma voglio metterci un punto di sclamo interrogativo, perché, anche, se è positiva, poi si è interrotta da una parete, ecco, giochiamo contro la decima, giochiamo contro Sheffield, West, Sheffield West, sì, hanno, due Jones in squadra, E lines, dai ragazzi, stendo la, siamo tornati, oh, altri giocatori fuori, sfortunati loro, però, ai, 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 pensiamo la partita, beversi, dai ragazzi, credo di voi, credo di presto, dai, dai cavolo, dai cavolo, dai cavolo, dai cavolo, dai cavolo, no, Finita, 3 a 0, abbiamo perso, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso molto, vabbè, con questa parte, con questo qui, finisce, la quattro stessa parte, un saluto da Robert Thomas, del 1909 del P, che era, presto, grazie, cominciate a scrivere, Grazie a tutti